Vigili del fuoco nuovamente in azione, ieri pomeriggio e fino a tardasera all'ex mulino pastificio Saccenze. Nonostante l'intenso lavoro svolto in precedenza, alcuni focolai sono ripartiti e dopo aver costantemente monitorato la situazione, i vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti sul posto con l'ausilio del mezzo che ha consentito alla squadra di operare nelle migliori condizioni. A tardasera l'allarme è rientrato e adesso non c'è più nulla che brucia all'interno del vecchio mulino Saccenze che già in condizioni fatiscenti è andato quasi completamente distrutto dopo l'incendio che si è generato mercoledì pomeriggio. I piccoli focolai che anche ieri hanno interessato la struttura hanno anche ritardato il rientro a casa delle dieci famiglie che erano state evacuate. In realtà si attende anche la verifica degli impianti in giornata per poter consentire loro di tornare negli appartamenti che andranno comunque bonificati. Famiglie che hanno vissuto ore di apprezzione prima di abbandonare la palazzina attigua al vecchio mulino pastificio Saccenze, un bambino nelle fasi concitate dell'incendio ha anche subito un usione all'orecchio, fortunatamente nulla di grave. Domati ieri sera gli ultimi focolai adesso si può mettere in sicurezza l'aria. Il circomare di Sciacca ha emesso oggi apposita ordinanza di interdizione al transito veicolare e pedonale di parte della banchina San Pietro che rimarrà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Era già stato chiuso al transito il vicolo mulini. Adesso scatta la verifica dell'immobile dell'ex mulino o meglio di qualche rimasto.